Angelo era il sindaco di un piccolo comune, ma era un sindaco importante e posso dirlo in questo modo, lo dico, era un vero sindaco, ti dico sono tutti uguali, era un vero sindaco, uno riuscì e sapeva quello che doveva fare, sapeva che doveva aggiustare i buchi in mezzo alla strada, controllare le piccole cose, perché se lo riconosceva, c'era questo, e lo facevo tutti i giorni, e lo facevo talmente che nei miei ricordi, oltre a quella sera, c'è una Pasqua, qualche anno prima, io stavo sempre a San Marco di Castellabate, ed ero quel giorno a Pasqua, a pranzo da Luisa Cavaliere da Giacaranda, a San Marco di Castellabate, mi telefona Angelo, che era venuto a sapere che stavo lì, e mi dice, ti dovrei parlare di una cosa per me molto importante, di una strada che mi sta molto a cuore, e io mi dice, è mio, lui vede, si scusò molto, e io mi dice, ma che ti scusa, tu sei sindaco, io ho fatto il sindaco, stai facendo il mestiere di sindaco, devi rompere le scatole, è pure il giorno di basso.